Ciao a tutti ragazzi, sono AngelResurrection e benvenuti in questo video dove inaugurerò una nuova zone, una nuova zone, zona e praticamente tutti i Griefer che sono stati bannati saranno sbannati perché appunto è aperta la Grief Zone allora in pratica la Grief Zone si trova al TP che è accanto allo spawn, si trova accanto allo spawn ed è nel negozio, cioè non nel negozio, nel locale TP, nell'edificio TP dove ci sono vari monti, vari posti tra cui la Monumental Zone, la Frabile Zone, la Wild Zone e la Grief Zone, la Grief Zone questa è la prima zona ma poi ce ne saranno anche altre quindi a tutti i Griefer, dico solo, vi sbanno, potete griffare all'interno di questa zona ma non potete griffare nient'altro di fuori di quella zona quindi vi sbanno, un saluto ufficiale e alla prossima non potete griffare all'interno di questa zona ma non potete griffare